E' arrivato! Ne è arrivato un altro! Bene, quindi si può iniziare con il terzo episodio del pack opening Ecco, iniziamo, vediamo cosa trovo per primo Allora, iniziamo con una bella magnetta iniziamo E c'è una macchina davanti, aspetta! Ok, sinceramente non capisco cosa sia, mi sembra una Mercedes o una Ston Martin Vabbè, comunque, adesso me la metto Ci sta come il tessuto alla fine, è molto comodo Poi cosa c'è? No! Le calze! Le calze! Con su scritto... Le calze con su scritto gas Gas E Crutch Che sarebbe frizione Troppo bella Allora, mettiamo via Mettiamo qui Poi No! 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 C'è un fidget spinner No, raga, no No, 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 io li odio C'è Ok, magari... è figo, eh È figo, per essere figo è figo Però... è inutile Al lavoro ho dovuto prendere un fidget spinner da 40 euro per una sommessa del cazzo Ok? Quindi... su queste cose mi stanno sulle baghe Però... collezione No problem Mettiamo via Basta cacciaviti, ok? Tuner crate, mi rivolgo a te Non voglio più cacciaviti Ok? Basta Va bene Ah, un'altra magliettina Vediamo qui com'è Aspetta, eh No, che figata Ah, qui c'è scritto build Dietro l'avete visto Continuiamo Ah, il foglio Che ti fa vedere tutto ciò che potresti trovare Infatti c'è il fidget spinner, anche ma non E le magliette Poi La spilletta B for build B is for build Oh Un altro tipo un arbre magique Della B is for build Ci sta Mi servono sempre Poi Ah, adesivi Questo me lo metto Sulla PS4, easy La carta Che c'è sempre Quella Probabilmente Correzionabile, sì Poi Mi è caduto qualcosa Vabbè L'asciugamanino Per togliere la polvere Ehi Poi cosa c'è? Ah, c'è il poster GT86 Sempre B is for build Eeeh, ti dirò Mi è piaciuto molto questo unboxing Mettiamo tutto via E il problema è solo uno Adesso Che praticamente C'è stato un problema Con TunerCrate Dove Hanno rilevato Degli account Fasuri Ok E quindi mi hanno tolto anche mio Ma io non sono Fasuri Cioè Vedono i video su YouTube Quindi Eeeh Niente Adesso sto cercando di farmi Un nuovo Un nuovo account Anzi Ce l'ho già Però Non so perché Non mi Non mi prende la carta Quindi Vabbè Eeeh Boh Qui Credo che sia tutto Alla fine Fidget Spinner Lo lascerò via A prendere Poi Le calze Non le uso un tot Le uso un tot Mi servivano delle calze Così Eeeh Boom Abbiamo finito Con questo unboxing Eeeh Ci vediamo In un altro video Ciao 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 Ciao